Il grappa in quel dicembre non fu una posizione divisa in innumeri braccia di trincee da dove a migliaia gli uomini si battevano contro gli uomini. Fu una fornace che inghiottiva migliaia di soldati dell'una e dell'altra parte senza quasi che fosse possibile ai nemici e agli amici guardarsi in viso. Non conoscevano che una realtà, il bombardamento continuo intensificatosi col tempo nel quale gli uomini scomparivano. Le compagnie e i battaglioni si polverizzavano sapendo soltanto che bisognava morire sul posto perché pochi chilometri dietro era la pianura dove il nemico non doveva a nessun costo scendere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.